Ecco Giuseppe Marinone, sappiamo che si sta allenando, si sta allenando per un record? Mi sto allenando per tentare il record degli ottantenni su pista, che appartiene a un francese che ha fatto 38 km e 600 metri in un'ora, io tento di batterlo. E quando è che farà questo? Il 19, sarà il 19 agosto a Toronto. Ecco perché lei vive in Canada? Io vivo in Canada da 52 anni. E lavora ancora? Tuttora? No, io non lavoro, mi diverto lavorando. Che è diverso sicuramente. È diverso, sì. Produce biciclette e poi va anche nel tempo libero? L'anno scorso per esempio ho fatto 12.000 km ancora in bicicletta, quindi cerco di tenermi in forma per la salute, perché purtroppo a lavorare a fabbricare biciclette ci si intossica anche perché il gas, la polvere e tutto, insomma. Invece andando in bicicletta mi disintossico e sto ieri, no oggi ho fatto il giro del lago stamattina, insomma alla mia età non ce ne sono tanti, ce ne sono tanti, sì ce ne è, però io sono uno di quelli che lo fa. Ecco la sua vita è proprio legata al mondo della bicicletta, sia da quando ero giovane, quando faceva diverse gare e poi è continuato sempre a stare nell'ambiente. Quando ero giovane dicevano tutti che ero un buon corridore, dopo purtroppo un po' il militare, un po' uno, un po' l'altro, sono andato a finire che sono diventato vecchio e non sono passato a professionista, però dopo in Canada mi chiamavano il coppi canadese, anche se non ero più forte di quando ero qua. Insomma qua ho vinto, ho provato a vinte dell'Ecronometro e corse in linea, campione Lombardo, campione Bergamasco, insomma. Poi venivo da un piccolo paese, però noi siamo una famiglia di, tutta la famiglia di, perché io praticamente Paolo Savoldelli è mio parente, è mio cugino in seconda e Baronchelli è uguale, Baronchelli è mio cugino in seconda pure, perché mia nonna era Baronchelli e la sorella del nonno di Baronchelli. E avevate già un campione in famiglia? Beh, mio zio era stato campione italiano dei veterani nel 1939. Ricordiamo come si chiamava? Antonio, Antonio Marinoni. E quindi continuerà sempre ad andare in bici? Io continuerò, io penso che continuerò, mia moglie dice sempre, te morirai o in bicicletta o saldando, uno dei due. O comunque però sempre con la bicicletta? Sempre con la bicicletta a fianco. E rispetto alla sua scelta di andare a vivere in Canada lo rifarebbe? Sì, lo rifarei, lo rifarei, senza altro non mi sono mai pentito una volta di essere rimasto in Canada, perché poi lì ho trovato, ho trovato, adesso ho un nonno, ho quattro nipoti, due figli, che uno lavora con me e l'altro invece ha partito in un'altra strada, ma non è che sta meglio del padre forse. E su di lei recentemente hanno realizzato un film? Su di me c'è stato un cliente che veniva sempre a dirmi voglio fare un film, ma vuoi fare un film? Cosa vuoi che abbia fatto? E purtroppo lui l'ha realizzato e adesso mi trovo molto contento perché praticamente è stato presentato in tutto il Canada, poi sono andato in California, in Giappone e in Spagna. In Spagna ha vinto addirittura il primo premio, erano film sulla bicicletta e ha vinto il primo premio.